Nel primo video vi ho raccontato su grandi linee gli ultimi secoli di questa terra, che sono stati più interessanti. Invece con questo partiremo dal X secolo a.C. per giungere all' unità d'Italia. Vi racconterò anche le leggende che ci spiegheranno le origini delle varie civiltà o etennie che conquistarono le Orobbie. Fino dal X secolo a.C. delle Orobbie, su chi vi abitasse e comandasse, di preciso praticamente non si sa nulla. Poi dal VII secolo al V, dietro le Alpi, come vediamo, fiorì la civiltà dei Celti, che la conquistarono e vi si stabilirono. Poi vennero i Romani, che secondo la leggenda la loro civiltà fu fondata nel X secolo a.C. da Enea, che con la famiglia, per volere degli dèi, riesce a fuggire dalla città di Troia in fiamme, che ne vediamo i resti. E dopo aver girovagato nel Mediterraneo ed una breve sosta a Cartagine con Didone, arriverà alle foci del Tevere e dalla sua discendenza nascerà Roma. E dopo otto secoli, Roma ormai stava per diventare la capitale del più grande impero sulla terra della sua era. E nel II secolo a.C. conquistò le Orobbie, strappandole ai Celti. E vi rimasero fino al V secolo d.C., quando l'impero romano andò in rovina. Dal V secolo fino al VI fu invasa da diverse qualità di barbari senza dimora e non vi si stabilirono. Finché nel VI secolo venne conquistata dai Longobardi, che secondo la leggenda la loro civiltà nasce diversi secoli prima in Scandinavia. E con precisione a Scania. E ne vediamo il luogo. E dopo aver girovagato per mezzo Europa, verranno in Italia e vi si stabiliranno, conquistandola quasi tutta. E chiameranno una parte del loro regno Lombardia, che diverrà il nome della nostra terra. E secondo la leggenda, il nome di Longobardi deriverebbe da popoli con le lunghe barbe, oppure dalle lunghe alabarde. E siete liberi di crederci se volete. Finché nell'Ottocento si misero in mente di conquistare Roma. Allora su invito del Papa calarono in Italia i franchi al comando del loro re Carlo con l'ordine di sterminarli tutti. E dopo averlo ringraziato per l'ottimo lavoro fatto lo benedisse. E lo incoronò imperatore. E prese il nome di Carlo Magno, imperatore del sacro romano impero, e vi regnarono assieme. I franchi, secondo la leggenda, la loro civiltà nasce sulle rive del Don nel X secolo avanti Cristo da un gruppo di troiani che riuscirono a salvarsi a stento dalla loro città ormai distrutta. E mentre Enea, come abbiamo visto, verrà a fondare Roma, loro si stabiliranno sulle rigogliose sponde del Mar Nero, ora sullo schermo. E poi, ad agio ad agio, risaliranno il Danubbio. E vi si scontreranno con l'impero romano ormai in decadenza annientandolo. E presero il loro posto. In onore del loro santo preferito chiamarono il lembo di terra che da arriva ad Erve, che vediamo, va al San Martino. E con i vari imperatori del sacro romano impero arriviamo al 1200. Poi vi fu l'era dei comuni, che durerà fino dopo il 1300. Dal 1330 al 1400 viene conquistata dai visconti di Milano e grazie a statuti speciali e varie agevolazioni fiscali che ne favoriranno i commerci, per tutti i suoi abitanti gli affari andarono a gonfie vele. Dal 1400 alla fine del 1700 passa sotto il dominio della Repubblica Serenissima di Venezia, che migliorerà ancora maggiormente i suoi traffici. Tanto che vi era un detto che così sentenziava. Ci sono più ricchi mercanti e artigiani nelle terre bergamasche che pesci nei loro fiumi. Piccola nota. Venezia, fin dal suo inizio, faceva buoni affari con il cantone svizzero dei Grigioni. E siccome la via Mercatorum, che sarebbe la mulattiera, la quale, partendo da Nembro, raggiungeva Morbenio, e che, vediamo, siccome gli affari aumentavano giorno per giorno, era diventata insufficiente. E stanchi di perdere i loro preziosi carichi di merci, o pagare forti dazi agli odiati spagnoli che in quel tempo comandavano a Milano e su mezza Italia, decisero di realizzare una via carrale nuova di pacca dentro i propri confini, che vediamo, e prese il nome dal podestà di Bergamo al visi Prioli, e fu chiamata via Priola. Che partendo da Bergamo, da Porta San Lorenzo, ora in video, superati gli strapiombi sul brembo alla botta di Sedrina, e passando per Mezzoldo, raggiungeva la vetta del colle, che prenderà il nome di Passo San Marco e vi edificherà la relativa casa cantoniera. E poi giù, finalmente, a Morbenio, in Svizzera, perché la Valtellina, dal 1512 al 1797, apparteneva ai grigioni svizzeri. E così giungiamo al 1800, e viene conquistata da un altro francese, Napoleone Bonaparte, che viene in Italia con le sue truppe, ma questa volta senza essere invitato da nessuno, e pose fine non solo al Sacro Romano Impero, che era iniziato mille anni prima dal suo connazionale, ma anche alla Repubblica di Venezia, cominciata nel 697 e terminata nel 1797, e passerà sotto la Repubblica Cisalpina. Dal 1815 al 1866 farà parte del Regno del Lombardo Veneto, e molti industriali stranieri, prevedendo di fare ottimi affari, vi trasferiranno le loro industrie, che col divenire dei tempi aumentò il benessere dei suoi abitanti. E poi ci furono le tre guerre di indipendenza, e finalmente abbiamo il Regno d'Italia, e per voi ed io ormai siamo giunti alla fine. La parte riguardante le guerre fra Guelfi e Ghibellini, con le varie carneficine da entrambe le parti, e relative carestie che vi scopiavano dopo ogni macello, le sorvolo. Questo delle Eorobie è il suo capitolo più nero, ma quelli erano i tempi e li dobbiamo accettare, anche se questi vi portarono solo lutti e miseria. Arrivati a questo punto, se volete vedere ulteriori video con storie, favole, fatti veri, battaglie, eccetera eccetera, della nostra terra, per facilitarvi la ricerca li troverete nelle playlist tematiche del nostro canale in YouTube Olimpo Web Video, dove i video sono stati archiviati. Oppure in altre playlist, sempre tematiche, ma in Facebook, Terra Padana Web, o in singoli video mischiati a casaccio, sempre in FB ma in Tradiscio Bergamaschi, dove potete anche rivolgervi se non riuscite a trovare quello che cercate. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.